Benvenuti a PCE Instruments, il vostro fornitore di strumenti di misura per l'industria, il commercio e la ricerca. PCE, Professional Calibrated Equipment. Salve, ho analizzato il PCE LPS 1305 della casa PCE, un alimentatore più che sufficiente per i lavori in lavoratorio. Anche il dilettante esigente si divertirà. Bene, se lo accendo, ha senso che lo faccia? Si vedranno delle cifre blu di 7 segmenti di facile e buona lettura. L'uscita di tensione è CV e qui V di tensione. Ancora non esce niente perché prima di tutto devo attivare l'uscita di tensione. Bene, adesso indica 15 Volt. Questa la posso regolare in modo continuo da 0 Volt fino all'uscita massima che sono 30 Volt o quasi 30 Volt. Posso anche scendere a 3,4 Volt. Questo è il range che posso impostare. Se voglio impostare la tensione con esattezza 10 Volt, dispongo qui di un regolatore sottile. Questo è molto più sottile dell'altro pulsante che ho appena usato. Questo mi permette di impostare con precisione in passi di 0,1 Volt. Bene. Questa era una volta la costante della tensione. Rimane stabile con un carico diverso. Lo corregge molto bene, così come la componente del rumore e altri parametri. Tutto questo è nella scheda tecnica in quanto cambia al variare della tensione della corrente. Parliamo adesso della corrente. Ho menzionato prima di 30 Volt e la corrente sono 5 A. Questo è quanto vedremo ora. Ma non metto questo pezzo perché non indica nessuna corrente quando non fluisce. Faccio un cortocircuito. Adesso possiamo vedere qui 170 mA. Se ora ruoto il tasto della corrente, allora si vede come aumenta a 5,1 A. Bene. Abbassiamolo senza torturarlo tanto perché altrimenti si surriscaldano i cavi. Naturalmente non vediamo nessuna tensione. Perché? Perché la caduta di tensione o la corrente che fluisce qui fa cadere la tensione. Altrimenti la potenza andrebbe all'infinito. Per un lato, questo dispositivo non lo fa, il trasformatore non lo ottiene e dall'altro non ha senso. I circuiti dei dispositivi con cui lavoro li voglio proteggere. Ecco perché ho un limitatore di corrente. Una volta raggiunta la corrente nominale, si abbassa la tensione fino a quando la corrente non viene superata. Se lo apro, ho di nuovo la tensione nominale. Pertanto, è un dispositivo standard per lavoratori e per non esperti. Questo strumento sarebbe stato un sogno 30 anni fa. E' con ottimi risultati. E' leggero, relativamente leggero. Non pesa molto. E' un dispositivo lineare. Vuol dire che non è un adattatore di rete. Cioè, posso usarlo in aree in cui ho problemi con le alte frequenze e dove gli adattatori di rete hanno problemi perché emettono armoniche e questo nella banda radio non è buono. Nel range dell'alta frequenza è molto silenzioso. Bene, il LPS 1305 di PCE è un buon dispositivo. Spassmacht.